L'ottimismo del Governatore Paolo Frattura non convince i rappresentanti delle piccole e medie imprese costrette a fronteggiare quotidianamente una pesante crisi che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza per di più in un contesto di totale immobilismo della Regione. L'ulteriore grido di allarme sulla gravissima situazione economica e produttiva che sta attraversando il Molise è arrivato dal Presidente di Confimpresa Luigi Zappone. Il dramma ormai siamo arrivati giù al fondo, tutto è stato già grattato nel fondo di questo pozzo e se la politica, le associazioni, non facciamo un percorso comune che ci vedano fare delle proposte tutti quanti insieme questa è una Regione, non so la fine che farà. Una cosa è certa, così come siamo messi non siamo messi bene. La politica che dovrebbe fare secondo lei? Ma la politica anziché chi va avanti e chi va dietro col rischio che si colpisce alle spalle con le pugnalate farebbe bene metterci sotto braccio e noi sotto braccio a tutte le altre organizzazioni e fare dei percorsi comuni perché solo se facciamo dei percorsi comuni riusciamo a dare il nostro contributo e non voglio dire a risolvere il problema ma perlomeno se ne parla. Ma lei come associazione ha avuto contatti, confronti con la Regione Molise sulla crisi? No, assolutamente. La Regione non chiama le organizzazioni, ancora sta pensando e si attiene a quelle che sono le vecchie regole del CNEL Il CNEL ormai è superato, addirittura lo vogliono eliminare perché tutte le proposte del CNEL fino a oggi discusse, in 50 anni, 60 anni dal dopoguerra oggi non è stata approvata nessuna norma e addirittura è un ente che non serve, farebbero bene a chiuderlo ma non solo, il CNEL ha anche altre organizzazioni. A rischio è anche l'autonomia di questa Regione? Ma questa è la cosa più grave perché la mia famiglia ha dato una vita a questo territorio, a questa Regione ci siamo sempre prodigati perché questa Regione poteva svolgere un ruolo oggi mentre mi vedo e quando ascolto notizie a livello nazionale di persone che si permettono di dire che questa Regione deve scomparire non faccio altro che sentirmi male e penso che una vita, una famiglia che lotta per l'autonomia e una Regione che lotta per l'autonomia perderla perché la politica non vuole scendere a compromessi, la politica non vuole scendere in mezzo alla gente rimboccandoci tutti insieme le maniche ma rimboccarcele veramente, ognuno perda qualcosa ma cerchiamo di essere uniti e andare avanti perché solo se andiamo avanti tutti insieme possiamo fare un percorso e riconfermare questa autonomia in questa Regione.